buonasera a tutti buonasera benvenuti in questo nuovo webinar di purple trading insieme a filippo giannini di trading facile un piacere averti qui filippo anche oggi benvenuto buonasera marco buonasera a tutti buonasera di nuovo di nuovo qui tutti insieme oggi anche con questo esperimento delle 20 e 45 quindi molto 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 interessante stare qui insieme a voi in questo post serata e oggi si parlerà di strategie di trading basate sulle medie mobili insieme a filippo giannini trading facile insieme a me marco martire country manager di purple trading fateci sapere magari se l'audio se riuscite a sentirci perfettamente ci vedete ovviamente magari scrivete in chat un commento giusto per capire se è tutto a posto farei una breve introduzione del broker per chi magari non ci conoscesse ancora e poi lascio la parola ovviamente a filippo che ci guiderà su questa perfetto grazie mille sergei ci guiderà insomma su questo webinar molto interessante sul trading riferito alle medie mobili quindi quali funzionano davvero ti ringrazio vincenzo vado avanti la purple trading purple trading è un broker stp puro non un broker market maker quindi nessun conflitto di interessi con i propri clienti ciò significa che non facciamo da controparte non guadagniamo sulle parti del cliente un'esecuzione rapida ed equa degli ordini sono ovviamente benvenuti tutti i clienti profittevoli con protezione del saldo negativo siamo nell'europea siamo sotto l'esma quindi noi agiamo in questo modo chiaramente inoltre tutti i conti dei clienti sono segregati sia per clienti fisici sia per clienti come persone giudiche quindi per società le piattaforme che utilizziamo mt4 e ctrader abbiamo anche il copy trading account come volete su mt4 e inoltre abbiamo anche gli etf come veri e propri strumenti di investimento tra gli strumenti invece dove potete fare trading consapevolmente ovviamente di tutto il resto abbiamo forex materie prime indici azionari con microlotti cripto azionario cfd americano su future e future cfd inoltre anche gli indicatori purple molto interessanti perché li potete provare in maniera totalmente gratuita in demo e poi ovviamente poi potrete anche averli in reale sono totalmente ripeto gratuiti tra l'altro stiamo implementando anche un quinto indicatore quindi sarà ancora molto più interessante per voi poterle testare tra cui consiglio il purple levels che è veramente un ottimo indicatore canale telegram potrete vedere un canale telegram attualmente dedicato gratuito io lascerò ovviamente in chat tutte queste informazioni quindi prendetele e nel caso in cui volete il canale telegram ogni giorno ci sono analisi finanziarie articoli nonché anche offerte ricordo poi sempre i nostri programmi ovvero quello da strategy provider quindi se avete una vostra strategia e siete molto interessati a volerla pubblicare sul nostro sito lo potete fare in maniera totalmente ovviamente gratuita e in questo modo saremo noi che abbiamo una licenza di portfolio management a coprirvi totalmente e quindi a fare da ombrello tra clienti e strategy provider introduzione broker nel caso in cui invece vogliate chiaramente presentare le vostre persone ricordo a tutti inoltre che in base a quello che è la nostra offerta insieme a trading facile insieme ai nostri partner voi potete aprire in questo caso perdonatemi la foto è vecchia ma in questo caso è del prossimo mese potete aprire tranquillamente un conto con noi senza alcun deposito minimo e ottenere lo status prime essendo voi partecipi di questa collaborazione con Filippo Giannini di trading facile ricordo a tutti quindi questi sono le mie i miei contatti lascio chiaramente qui in chat se siete interessati per qualsiasi domanda qualsiasi informazione volete tranquillamente scrivermi tranquillamente chiamarmi quando volete e avrete ovviamente tutte le risposte io lascio adesso la parola intanto a Filippo e anche la condivisione lascio in chat tutti i miei contatti e tutte queste cose che vi ho raccontato adesso e per il resto se avete delle domande da fare sono quelle leggerò io direttamente a Filippo quindi almeno possiamo avere anche una piacevole discussione tra tutte le persone che sono già coinvolte lasciate la parola Filippo perfetto grazie mille Marco di nuovo buonasera a tutti e benvenuti a questo evento insomma ecco spero che l'orario sia consolo l'abbiamo fatto per la verità anche per venire incontro anche un po' alle esigenze di tutti quindi anche chi magari ha difficoltà a collegarsi insomma ecco dalle 18 che è l'orario insomma canonico in genere per questo tipo di eventi però insomma mi fa piacere essere qui con voi questa sera quindi l'argomento lo ha già presentato Marco strategie di trading basate sulle medie mobili quindi questo webinar nasce prima di tutto insomma ecco dal fatto di fare un pochino chiarezza su un tema che è comunque un tema attuale insomma le medie mobili sono uno strumento delle quali si parla molto spesso è uno strumento cardine dell'analisi tecnica se ne parla nel bene e nel male quindi vedremo chiaramente stasera quanto c'è di buono quanto c'è di vero insomma ecco sulle strategie di medie mobili e personalmente presenterò anche quello che personalmente è l'approccio perché chiaramente ce ne sono svariati li vedremo l'approccio che maggiormente prediligo come trader sistematico quindi l'approccio che secondo me diciamo ecco personalmente almeno personalmente è quello che prediligo prima di iniziare però vado a leggervi velocemente il disclaimer come al solito per ricordarvi che le informazioni fornite nel corso di questo seminario hanno scopo di carattere generale non quello di prestare consiglio per divino acquisto vendita nessuno più non espressa riguardanti investimenti o strategie di investimento quindi considerarsi adeguata in merito alle caratteristiche di una specifica persona e alla sua conoscenza e esperienza del trading online le informazioni riguardanti le performance passate non costituiscono garanzia di performance futura i futures fd e forex sono prodotti che utilizzano l'effetto leva quindi mi raccomando prima di operare con del denaro reale assicuratevi sempre di aver compreso tutti i rischi velocemente mi presento per chi magari ancora non mi conosce sono un ingegnere sono membro siat sono socio professional dal 2010 opero come credere indipendente attualmente svolgo l'attività di sviluppatore di sistemi di trading automatico per trading facile che è una software company che si occupa di ideare programmare distribuire appunto trading system automatici mi trovate un po in generale su tutti quelli che sono i principali eventi italiani nel corso insomma nel corso dell'anno le mie analisi le trovate pubblicate regolarmente sul mio sito che è trading facile punto e umare ve lo faccio vedere qua eccolo qui www.trading facile.eu qui trovate tutti i trading system ma anche un blog quindi quelle che sono le ultime news la mia personale view ogni mattina pubblico una nuova analisi su uno dei sottostanti sottostanti principali appunto che che seguiamo e quindi insomma ecco trovate anche tanti spunti interessanti per la giornata vi lascio anche i nostri recapiti la mail quella generale è info chioccio la trading facile punto net e poi mi raccomando vi invito a a seguirci iscriverci iscrivervi chiedo scusa ai nostri canali social quindi canali youtube pagina facebook e canale telegram quindi insomma iscrivendovi avete tanti contenuti gratuiti e aiutate anche a far crescere la nostra community bene quindi come detto strategie di trading sulle basate sulle medie mobili quindi innanzitutto una un veloce appunto recap su cosa cosa sono e cosa fanno le medie mobili poi quelli che sono i possibili tipi di approccio e poi esempi pratici lo sapete insomma ormai per chi ci segue sa che io amo appunto fare sempre una prima parte diciamo ecco di didattica durante questi eventi però poi insomma mi piace sempre mostrare dei backtest quindi dei track record quindi poi il mettere veramente in pratica queste idee e capire se effettivamente queste idee funzionano oppure no quindi innanzitutto quale sono le principali i principali tipi di medie mobili abbiamo la media mobile semplice la media ponderata la media esponenziale e poi una che magari è meno conosciuta ma non meno magari efficace ovvero la media mobile adattiva sostanzialmente la media mobile semplice è una media aritmetica viene fatta insomma calcolando appunto i calcolando nel valore su un determinato appunto numero di prezzi del passato quindi ad esempio la media a 100 periodi prende come riferimento gli ultimi 100 valori tipicamente di chiusura appunto delle ultime 100 candele sul grafico poi insomma chiaramente le candele una candela può valere cinque minuti può valere quattro ore un giorno questo dipende dal time frame però qui importante è che ogni candela ha la stessa importanza quindi media mobile semplice perché appunto tutti i valori hanno lo stesso peso dopodiché c'è la media ponderata ovvero una media insomma dove vedete qui in esempio una media mobile a dieci periodi la chiusura del decimo giorno viene moltiplicata per dieci quella del nono per nove quella dell'ottavo per otto e poi insomma tutto viene diviso per la somma dei multipli quindi si dà un peso maggiore all'ultimo agli ultimi dati piuttosto che diciamo ecco ai meno recenti c'è poi la media mobile esponenziale dove qui appunto c'è un decadimento insomma per quanto riguarda i valori passati che non è un decadimento lineare appunto come peso ma è un decadimento appunto di tipo esponenziale quindi qui in questo caso insomma ecco i dati più recenti pesano molto di più di quelli passati è una media che nasce dall'esigenza di avere uno strumento maggiormente reattivo perché molto spesso l'appunto che viene fatto alla media mobile per lo meno quelle diciamo semplici è di essere poco reattive ai cambiamenti del mercato quindi di metterci no del tempo prima di adeguarsi ad un nuovo trend e quindi da qui appunto l'esigenza di utilizzare una media mobile esponenziale personalmente io devo dire che insomma ecco pur riconoscendo la media mobile esponenziale quindi anche un pochino per cominciare diciamo a mettere qualche punto pur essendo effettivamente la media esponenziale maggiormente reattiva io non ho mai trovato un reale vantaggio facendo insomma ecco per quello che è la mia esperienza quindi anche come trader sistematico insomma poi dai da quello che viene fuori dai vari back test studi eccetera non ho mai trovato questo grande vantaggio nell'utilizzo della media esponenziale piuttosto che la media semplice tant'è che la maggior parte dei miei sistemi delle mie strategie che utilizza la media mobile utilizza una media mobile semplice quindi perché perché comunque lo ritengo uno strumento comunque efficace l'ultimo l'ultima media che andiamo a vedere è una media chiamata adattiva perché proprio perché insomma direttamente insomma ecco da riprendendo il discorso che abbiamo appena fatto sul 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 discorso che la media mobile semplice è poco reattiva la media mobile adattiva invece è una media che è stata appunto utilizzata o meglio creata da perry kaufman che è uno dei più noti trader sistematici ancora in vita che di fatto ha ideato una media mobile che sostanzialmente ha una velocità variabile ha una velocità variabile ora sintetizzo un pochino questo magari ve lo do più che altro come spunto per chi volesse diciamo ecco studiare questo argomento è una mobile che una media mobile che ha una velocità variabile è una velocità che varia in base alla volatilità dello strumento ci sono dentro chiaramente quindi concetti di matematica e statistica tra cui appunto un efficiency ratio un rapporto di efficienza che appunto confronta i prezzi con la volatilità quando questo rapporto di efficienza è elevato significa che il movimento osservato è maggiore della volatilità e quindi la media tende a reagire più velocemente quando invece succede l'opposto questa media appunto viene calmirata reagendo più lentamente quindi questo è un pochino quello che perry kaufman ha tentato di di fare per ovviare diciamo ecco alla alla poca reattività delle delle medie mobili detto questo quali sono le principali principali metodologie per utilizzare le medie mobili all'interno di una strategia di trading tipicamente ce ne sono quattro che poi vedremo come alcune siano collegate tra loro per lo meno le prime tre a parte l'ultima le prime tre metodologie sono strettamente correlate tra loro e quindi la prima metodologia è quella di utilizzare le intersezioni tra prezzo e media mobile quindi sostanzialmente diciamo ecco prendere segnale sul grafico quando quando una media mobile opportunamente diciamo ecco valutata come appunto fornitrice di un di un di segnale di acquisto o vendita e poi chiaramente anche qui parleremo dei dei valori diciamo più opportuni in questo caso appunto quello che si può utilizzare è prendere segnale no quando il il prezzo sostanzialmente buca al rialzo quindi prendere segnale rialzista quando ad esempio il prezzo buca al rialzo una media mobile e prendere segnale no al ribasso quando il prezzo buca al ribasso la stessa la stessa media la seconda tecnica è quella che appunto utilizza l'intersezione tra due medie mobili in questo caso il segnale ad esempio rialzista non viene preso quando il prezzo buca al rialzo la media mobile ma quando ad esempio si ha invece una intersezione tra due medie mobili ok quindi il segnale al rialzo viene dettato quando tipicamente abbiamo una media mobile veloce come potrebbe essere una media mobile a 50 periodi qui sono sul grafico daily sono su sp500 quindi una media mobile a 50 periodi che buca al rialzo una media più lenta in questo caso una media a 200 e quindi insomma ecco prendere segnale quando si osserva questo incrocio tra due tra due medie una più veloce e una più lenta perché dico che queste almeno le prime due sono strettamente correlati perché perché se ci pensate se vi fermate un attimo a ragionare alla fine l'intersezione tra il prezzo e la media mobile non è altro che comunque una intersezione tra due medie mobili perché perché semplicemente il prezzo lo potete vedere come una media mobile ad esempio ad un periodo che succede a tutti